Arrivano a 581 i casi di positività in Puglia, 103 i nuovi diagnosticati nella giornata di ieri. Di questi 28 in provincia di Bari, 4 nella Bat, 9 nel Brindisino, 29 nel Foggiano, 17 in provincia di Lecce e 10 nel Tarantino. Un caso è attribuito ad un paziente non pugliese, mentre per altre 5 persone è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 4.789 test. La provincia di Bari è la più colpita con 165 casi, segue Foggia con 163 e poi Lecce con 88, Brindisi 84, Taranto 33 e la Bat con 30 casi. I numeri raccontano che c'è stata già una frenata, rassicura il professor Luigi Lopalco della Task Force regionale al lavoro contro il coronavirus. Dobbiamo augurarci che il picco non ci sia e che questo duri il più a lungo possibile, spalmando l'epidemia per avere la certezza di far guarire più persone possibili. Ma si può anche morire. Il numero delle vittime è altissimo, conferma il professor Lopalco. I contagi probabilmente nei prossimi giorni aumenteranno ancora e per questo bisogna essere chiari con la gente. La mia previsione è che le misure restrittive dureranno almeno fino all'estate. Ci potranno essere mitigazioni delle misure, torneremo a lavorare, a uscire, ma si può anche morire. Il numero delle vittime è altissimo, conferma il professor Lopalco. I contagi probabilmente nei prossimi giorni aumenteranno ancora e per questo bisogna essere chiari con la gente. La mia previsione è che le misure restrittive dureranno almeno fino all'estate. Ci potranno essere mitigazioni, torneremo a lavorare, a uscire, ma si dovrà fare tutto con molta calma e cautela. Prima di ottobre, inoltre, vedo impossibile riavere gente allo stadio. Ovviamente la preoccupazione più grande è quella di non riempire gli ospedali pugliesi, rendendo quindi difficile una adeguata cura per i casi. Già ieri, infatti, il primario di malattie infettive del Policlinico di Bari ha denunciato molti ricoveri tra i genitori e i nonni delle persone rientrate dal nord che vivono nella stessa abitazione, rendendo inevitabili i contagi. Le ultime ben 907 persone sono arrivate nella sola giornata del 18 marzo scorso. Ad oggi, dunque, sono quasi 23.000 le persone arrivate dal nord, ma la regione tema che altre 10.000 persone possano essere rientrate senza autodenunciarsi. Nell'ultima scansione termometrica degli arrivati, la maggior parte di loro, almeno il 15%, è giunta nelle destinazioni pugliesi con la febbre, un elemento che non sancisce la positività al test, ma un indizio che avrebbe dovuto indurre a maggiore attenzione.